Ecco, c'è l'entrata in campo delle due compagini, quarta giornata del campionato provinciale categoria giovanissimi, girone Chieti, tra Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa e la polisportiva Casalin Gamba di Casalin Contrata, il direttore di gara e della sezione AIA di Lanciano. Ecco, c'è la scelta del campo, qua ci sono i nostri ragazzi della Virtus Castelfrentano, Andrea, non mi ricordo tutti i nomi, Franco, Simone, Samuele. Ok, scambiatevi il saluto. Adesso va a verificare. Qua è la panchina ospiti, qua la panchina locale. Eh, il capitano va a salutare. Ecco. Ok, alla prossima ripresa.